Fai Fai De Giorgi per tanti anni è stato un tuo avversario magari come giocatore come ruolo perché tu ti avvicini senti Bruno è stato il tuo avversario per tanti anni come giocatore pari ruolo adesso tu sei CT lui ha palleggiato per il Brasile anche al recente mondiale che atleta è stato che atleta è un atleta beh è uno di quei giocatori che parlo come allenatore insomma sono quelli che ti rimangono nell'anima perché quando hai diciamo il piacere e la possibilità di allenarli poi capisci giornalmente lo spessore della persona e dell'atleta credo che Bruno da questo punto di vista sia veramente uno degli atleti straordinari che ho allenato uno dei giocatori che ti rimane come dicevo nell'anima perché ha una capacità comunque di a una cultura della squadra una cultura del lavoro come ha scritto anche lui cerca troppo la perfezione in certi momenti che poi lo portano in certi momenti a essere un pochino troppo esigente però un atleta veramente che che riesce a dare alle squadre una marcia in più perché è il primo sempre è un esempio e quindi diciamo io sono stato veramente felice di conoscerlo non solo come avversario di averlo come giocatore della mia squadra come atleta importantissima della squadra quindi sono qui anche per questo perché mi fa piacere veramente essere qui oggi per onorare un grande atleta faccio un flash veloce invece sul campionato come andrà a finire e cosa hai visto fino adesso tanto ho visto abbastanza equilibrio tanto equilibrio partite dei playoff diciamo interessanti ma anche con momenti insomma come sono i playoff insomma si creano opportunità chi le sa sfruttare chi non le sfrutta chi si agita chi non si agita però credo che sono state tante partite è stato molto interessante e avvincente guardarlo e adesso insomma dai questa è una finale di conquistata con merito dalle due squadre perché sia trento ma anche cività nuova sono uscite da situazioni non semplici e quindi hanno dimostrato di avere non solo qualità tecniche ma anche una solidità di squadra importante normalmente alla fine arrivano sempre anche se la differenza può essere poca con le altre ma arrivano quelle che hanno qualcosina in più adesso vediamo io ho detto prima dai che sia un'altra finale equilibrata ma non troppo perché iniziando il ritiro con la squadra io spero che insomma che duri io ho detto quattro partite dai non cinque no non esageriamo quattro partite perché poi devo dare anche qualche giorno di riposo diciamo a chi ha partecipato a queste finali c'è un nuovo romanò in questo campionato c'è una nuova sorpresa che solo voi allenatori siete in grado di vedere no diciamo si sono visti dei giocatori interessanti anche qui a modena che hanno fatto un campionato molto interessante soprattutto hanno giocato e hanno potuto dimostrare sono cresciuti che è la cosa più importante poi noi siamo sempre attenti a tutte le novità diciamo se cerchiamo cerchiamo se troviamo ve lo faremo sapere grazie